3 piccioni ed un babbuino nooo mi ha buttato via l'azione ma dai eeeh qui se l'unità numerica si fa sentire gruppo al babbuino una troppo a lui corri via corri via eeeh deve ricaricare si sono messi bene qui usiamo heal che almeno tanto si blocca il gioco andiamo a correre lui muore adesso vi se ne è rimasto solo uno mi sembra un po' un po' così ragazzo facciamo un altro heal qui a forza di subire colpi insomma beh level up 4 oggetti di cui parecchia c'è anche vabbè prendiamola rimangono due slot questa la lascio lì per terra si voleva andare qua sopra però prima ricarichiamo questo mmm un bivio nooo un altro un altro porca puttana di incontro mamma mia che l'archezza ha fatto quel eh ma qui come si fa siamo tutti qui si va certo andiamo ci sei rimasto da sole ragazzo aspettiamo il momento curiamoci nuovamente sperando che non ci ti tocchi perchè altrimenti non abbiamo fatto niente questo non attacca? ecco bene mi si dice a colpo singolo munizioni il resto niente eeeh andiamo di qua qua si va ah brutta storia vabbè ormai siamo qui andiamo un'impressione non si andrà da punta e parte però infatti qui non ci si può passare qui nemmeno ora si torna indietro e c'è un altro incontro casuale meno male stato di un lupo leone quello che è non sembra esserci niente quindi attraversiamo il punticello punticello qui c'è un altro incontro come pochi perchè ho voluto fare questo giro non me lo chiedete munizioni 15 che userò tutte adesso oh invece no altro box altre 15 munizioni mi stanno preparando ben bene in pratica ah ecco invece c'era meno male l'importante è che non mi dia né babbuini né quelle specie di piante perchè erano un attimo trapposano poi facevano 27 a colpo 7 a colpo mi sembra tanto sembrano critici i al 2 bonus point su bonus point prende tutto e attraversiamo vediamo dove si arriva e porca puttana guardate dove siamo siamo dove prima e non abbiamo fatto niente in pratica lì c'erano le due piante quindi evito qua non si può andare qua siamo qui però c'è bisogno di una chiave ora evidentemente sarò stupido io ma tanto come minimo me lo immagino io torno qua dentro e stranamente troverò una chiave ok questa non ha chiave ma col computer nooo nooo quanto odio queste cose allora c'erano due porte bloccate una era questa qui e l'altra era qui però intanto andiamo a questa intanto credo sia solamente che questa entriamo incontro devo fare accattare il baule no però c'è un incontro giustamente e chi c'è ah questi due però sono piccoli fammi andare subito qua fatto uno mi ha fatto però come minimo ha la possibilità di dare il veleno benissimo vediamo un po' come si può raggiungere quel baule da qui nulla ah c'è una cretta qui un bel giro panoramico un altro baule tre baule wow medicina due eh il mio inventario è pieno eeeh che ci lascia sta piotto quasi quasi no ci lascia la junk ho preso un cure p che fa sempre comodo eeeh adesso adesso ah perchè anche di qua eh ok bene in un attimo mi ero perso lasciamo un'altra junk un bel difesa più due sarebbe anche cosa da dire di usarlo subito visto che questa armatura sembra discreta però non resta che fare ah ma non ho trovato ah la chiave ce l'ho ok quindi adesso basterebbe tornare al punto di primo sperando di non dover riaffrontare quelle due piante quindi qua a destra se non erro e poi in alto però meno male nessuno incontro sono un po' casuale vieni quindi adesso io posso arrivare qua e quindi ce ne ho già chillate una marea di questi animali scappate non credo se qualcuno sia uscito faccia la differenza una persona bruciata dai esaminala fa qualcosa non cioè non voglio che questa persona abbia un'altra chiave che poi mi servirà tra un po' ah questo serve proprio come blocco eh beh non posso procedere oltre quindi andiamo a diritto direi che stiamo arrivando ad un futuro boss to lo volevamo ecco lì sì ma se questo è un mitocondra si deve impadronire del corpo che lo ospita e però questo corpo brucia credo che muoia anche il mitocondra ma sono tutti vivi questi wow sono tutti vivi per davvero porca miseria porca puttana ecco sta roba mi fa mi fa mi fa un po' di fete cioè c'erano prima di arrivare qui c'era della vada che schifezza guardate che macello che ha fatto ma porca puttana di qua c'è exit non posso andare devo andare nel backstage ho detto qui nulla 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 vabbè per forza di cosa qui e backstage come ci arriva il backstage toh e oramai non ci rimane altro che seguire la bambina wow backstage è roba pesante è roba pesante è roba pesante wow backstage si arriva direttamente qui poteroso quicksave e ci lanciamo si 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 no ma come credo che qui ci sia qualche baule per la prima che si 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 Grazie a tutti.